buongiorno buongiorno a tutti e bentornati sul mio canale come vedete oggi non sono sola ma sono in compagnia di questa fantastica zucca che mi è stata regalata dal mio compagno in occasione di halloween qualche anno fa ma io l'ho tirata fuori perché halloween si sta avvicinando io sto cominciando ad addobbare la casa infatti come potete vedere qua a fianco a me ci sono già un po di cose che insomma ci fanno pensare che halloween forse è vicino e ovviamente sul mio canale non potevano mancare dei video dedicati all'argomento quindi in questo video brevissimo volevo soltanto dirvi che per aspettare insieme halloween ho pensato di caricare alcuni video dedicati appunto alla festività di halloween e ce ne sarà veramente per tutti i gusti perché troverete video di cucina con delle ricette a base di zucca poi troverete tutte quelle storie creepy misteriose tutte quelle leggende che ad halloween non possono mai mancare troverete poi anche qualche consiglio di lettura e ovviamente qualche lettura particolare che vada bene nel periodo di halloween quindi mi raccomando continuate a seguirmi iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto attivate la campanella in modo da essere sicuri di non perdere nessun video quindi in attesa che halloween arrivi lo aspettiamo insieme io vi mando un bacio e vi do appuntamento alla prossima ciao a tutti